Musica Aumentano ogni giorno le idee postate dagli utenti per il concorso Alimentarsi Bene e Vivere Meglio, promosso da Idea360, e di nuove ne arriveranno ai barcamp nelle Università di Milano e Roma. L'educazione alimentare è quindi un tema che riscuote attenzione, nonostante spesso non trovi spazio sui media e nelle politiche del governo. Ma io credo che in Italia ci sia anche un po' un fatto che la cultura alimentare è un po' considerata nel DNA degli italiani, proprio perché siamo un patrimonio agroalimentare e gastronomico molto importante. Nello stesso tempo siamo anche molto influenzati dai nuovi stili di vita, dai nuovi modelli di consumo, che vanno un po' a incidere su quelle che sono le tradizioni italiane. Quindi io credo che la cultura alimentare sia assolutamente una priorità per l'Italia, proprio per riportare la consapevolezza sia dell'importanza del patrimonio alimentare italiano, ma anche dell'importanza dell'alimentazione nella salute e negli stili di vita. Lavorare a scuola in famiglia sulla cultura alimentare è fondamentale per combattere le malattie provocate da una cattiva alimentazione. Il diabete, ad esempio, è in forte aumento tra i giovani e i bambini della civiltà industriale ed è il risultato di un'alimentazione eccessiva e disordinata. Educare significa quindi prevenire. Ricordo che l'idea 360 possa fare molto per lavorare su questo terreno. Possiamo pensare di mettere insieme tanti soggetti diversi, attivi nel settore alimentare, ma anche nel settore sanitario, nel settore della ricerca, agroalimentare, agrario e via dicendo, proprio per lavorare su degli sforzi comuni di informazione, di educazione e anche di progetti concreti che vadano a rispondere a queste esigenze. La tecnologia può offrirci molti punti importanti, una diffusione delle informazioni, la possibilità di introdurre nelle scuole delle forme anche virtuali di sperimentazione. Poi abbiamo dei grandi musei in Italia che possono anche aiutarci in questo senso a fare delle grandi opere di educazione. Credo che sia importante lavorare sulla sensibilizzazione dei genitori, della famiglia, sull'importanza dell'alimentazione corretta e anche lavorare molto con le scuole. Credo che si possa fare molto impostando anche, lavorando sia sul tema di alimentazione e salute, ma anche alimentazione e qualità di vita in generale, perché vediamo che molti degli stili di vita dei ragazzi, soprattutto nelle grandi città, poi portano anche, unite a un'alimentazione spesso appunto frettolosa, fuori casa, portano a un deterioramento generale della qualità di vita e anche al sorgere di patologie. Scuole e famiglie sono quindi canali privilegiati dell'educazione alimentare. Vediamo quindi quali sono i temi da affrontare con genitori e figli. Innanzitutto lavorare sulla biodiversità e sul fatto che un consumo alimentare è variegato e non legato, è legato anche alle stagioni per esempio, possa portare dei benefici in termini di alimentazione e di salute. Penso che si possa lavorare molto con le famiglie e con le scuole, perché il momento della scuola, oggi è molto importante per i ragazzi che passano più tempo nella scuola che in famiglia. Quindi lavorare soprattutto sull'introduzione nelle scuole di un'alimentazione più variata, come esempi di successo e li abbiamo visti in altri paesi e anche negli Stati Uniti. Aiutare i giovani fin da piccoli, fin dalle scuole alimentari, dagli asili a consumare di più il cibo fresco, avere un'alimentazione variata e poi educare molto sia nelle scuole ma anche nei luoghi in cui si consumano i pasti, al valore calorico dei cibi, ai valori energetici, alle contenuti di vitamine. Non dimentichiamo che una miglior salute vuol dire anche un minor costo sociale della sanità. Un tema importante per avvicinare anche le famiglie a una sana alimentazione è quello di avvicinarle di più alla natura, alla produzione, alla sperimentazione della cultura. Negli Stati Uniti e in altri paesi si è avuto molto successo con l'idea degli orti, quindi di dare degli spazi pubblici verdi alle famiglie a dei prezzi simbolici per poter avere delle proprie coltivazioni. Consumare cibi, prodotti in loco vuol dire anche risparmio energetico, vuol dire minore impatto ambientale.